... ... ...che potrà arricchere in montagna qualche rovescio o d'acquastone, localmente anche a carattere temporalesco. Passiamo all'evoluzione del tempo per la giornata di domani. Abbiamo detto che il tempo andrà decisamente migliorando. Avremo sia in montagna, nella zona dell'Alta Valle Seriana e Valle di Scalve... ...che potrà arricchere in montagna. Grazie per la visione! Grazie a tutti!